Tra immondizia, degrado, sporcizia, alle pendici delle mura aureliane di Roma c'è anche un atto di solidarietà perché c'è gente che magari viene qua, si beve una birra e la butta per terra nonostante lì ci sia un secchio però c'è anche qualche anima buona che lascia la Peroni sospesa mezza Peroni e qui forse nella busta c'è anche qualcosa però come dicono i buonisti dei social Cicalò non devi toccare le cose degli altri che stanno per strada perciò non tocca la monnezza, non tocca niente che poi è curiosa sta cosa che la tenda non la puoi toccare però se trovi la sostanza e la rimetti a posto e no, dovevi chiamare la polizia allora dobbiamo chiamare la polizia pure per la tenda perché la tenda non ci può stare in un luogo pubblico allora scegliamo dobbiamo chiamare sempre la polizia o ci dobbiamo fare affari nostri detto questo, oggi andiamo a controllare che a Ostiense sia tutto risolto come ci hanno segnalato un sacco di persone e come oggi vi farò vedere e passando per il giardinetto del Degrado anche qui quello che non manca mai sono le birre Roma è un crocevia di birre se si facesse la raccolta del vetro e la raccolta delle lattine a Roma diventeresti milionario qua come vedete è bellissimo posto di bivacco pre-metropolitana prestazione che poi prestazione non è prestazione adesso andiamo districandoci tra la giungla di rami che ci sono qua qui durante il giorno c'è sempre bivacco i cartoni sono per sedersi perché il posto è talmente sporco che nemmeno devi siedere di più sul prato ma devi siedere sui cartoni tra l'altro incuriosisce il fatto che qui c'è del limone ma non so se l'hanno usato per la birra o per qualche altro scopo che si usa di solito occhio che ci sono le siringhe eh sì ma ci calmo posso fare una raccolta fondi per quel ragazzo che mi pare tanto bravo attraversiamo un lago e qua ci mettono sotto siccome a venire questi posti c'ho paura e oggi sto da solo ho chiamato un ragazzetto che mi dà una mano certo non è Mattia Faraoni se chiama Oni me lo presento venite venite bella Oni bello regà cioè ma che mi sono portato Oni Mattia Faraoni che ce faccio guarda è il doppio senti tu mi stai dietro se mi rompono le scatole mi guardano strano e intervieni ma tranquillo siamo ritornati lì dove tanti avevano detto è impossibile che è così sporco è impossibile che c'è tutta sta zosseria e dopo che abbiamo fatto il video praticamente ci hanno detto che è stato pulito che siano anni e anni di merce rubata dei prodotti qui è il primo strato ci sono delle cose io non ho mai visto adesivi cose e mano a mano che saliamo si stratifica in altezza cioè lì giù sono due metri di roba accumulata allora io adesso sono curioso mi affaccio ed è tutto pulito perciò finalmente hanno pulito e noi ci affacciamo e guardiamo è tutto pulito considerate che qui c'era una tonnellata di zosseria e lì giù in fondo c'era un albero che copriva le telecamere perché investire soldi in videosorveglianza solo che qualche furbo ha deciso di non tagliare l'erba così che lì è tutto coperto cioè come fa crescere un albero lì in mezzo spieghiamocelo qua sotto c'è un divano tanto per dirvene una cioè uno è riuscito a buttare un divano sotto la telecamera e questo è stato già un primo grande passo importante per smuovere le coscienze di chi dovrebbe fare questi lavori tutti i giorni siamo ritornati pure nella piazza però nella piazza non ho visto grandi passaggi di pulizia o altro anzi a maggior ragione nella piazza continua qui il bivacco serale sigarette e birra ma poi la cosa che avevo segnalato che secondo me è più importante in assoluto è quel gabbiotto e questo è rimasto una piazza perché ancora è sfasciato ancora ci mettono le cose dentro ancora arriva una puzza terribile a sto gabbiotto e le condizioni sanitarie sono una roba terribile a cosa serve sto gabbiotto per fare la pipì per buttarci la roba dentro per metterci la roba sotto perché qui sotto è pieno di buste bustine pure le robe andate a fuoco e dentro la situazione è sempre peggio c'è il pavimento all'interno che fa veramente schifo e io credo che ci siano tutta una serie di problemi collegati alla parte sanitaria che solo per prenderlo solo per toglierlo sto coso vedrai che succede qualcosa non è neanche sta messo bene perché poggia su dei blocchetti di etufo è tutto sfonnato è tutto bucato allora o lo levate o lo riparate perché non c'è manco senso tenerlo così e qui bene o male la situazione è rimasta invariata anche dal punto di vista dei senza tetto delle persone che comunque dormono qui sono sempre poche stanno sempre nel solito angolo un po' coperto un po' no però poco è cambiato la situazione dei parcheggi inferiori invece questa è completamente fuori controllo perché continuano a rimanere chiusi tra l'altro chiusi sì ma degradati perché sporcizia accessi e tutto quanto avviene e quello che bisognerebbe un attimo capire è che ci vogliono fare questi parcheggi perché è il primo problema che c'è qui sotto tu immagina avere una rete dei parcheggi qui sotto completamente abbandonati o comunque parzialmente usati che fanno schifo che non si sa che ci fanno adesso riandiamo nell'area laterale che è quella che io preferisco evitare però devo comunque documentare perciò tocca che ci andiamo qui nel frattempo qualche topolino ogni tanto sbuca perché questa è tutta l'area dei topi buche topi zosseria come al solito la gente va da quella parte e cammina dove può perché in realtà il marciapiede qui non esiste e come ho detto dall'altra parte è chiuso però voglio capire se hanno lasciato lo stesso schifo che c'era prima e noi stiamo camminando mezzo alla strada ovviamente tutto il pericolo che c'è perché io qui come faccio a camminare sul marciapiede non c'è quello che invece era pure problematico è che appena imboccavi il marciapiede c'è stava la monnezza qui si parcheggia dappertutto nessuno nessuno fa sconti a nessuno e questa era la famosa area dove si fumavano la bottiglia qui non è cambiato niente anzi ti dirò di più è peggiorato lenzuoli cagati magliette cagate scarpe buttate piante morte tonnellate di bottiglie di birra siringhe li a terra pasticche e poi dulcis in fundo oltre all'angolo della merda che lì c'è veramente tanta tanta cacca qui ci hanno messo pure un televisore un paio di scarpe da serata eleganti tante tante siringhe bottiglie e sosseria varia e un'area lì dietro dove probabilmente c'è qualcuno che ci dorme questa transenna che stava qui messa teoricamente davanti a questo ingresso è stata pure spostata e ci hanno creato fondamentalmente un riparo qui l'immondizia è sempre in quantità e se andiamo di nuovo nell'area marciapiede e nell'area degrado qui ragazzi c'è veramente un peggioramento drastico tanti tanti cartoni tanta tanta merda tante tante siringhe tanto tanto schifo potete immaginare voi che questa quest'area qua questo spazio è uno spazio dove si accede la sera si viene rimossa questa piccola catenella da due centimetri e si va a finire nello schifo più totale qui sotto io non so che cosa possa esserci purtroppo non possiamo entrarci vuoi perché è chiusa o parzialmente chiusa vuoi perché veramente qua per entrambi servono le scarpe d'acciaio comunque vedo una quantità enorme di immondizia e ritorno qui nel famoso angolo della disgrazia e dello schifo di nuovo siringhe aghi per oggi c'è in particolare una migliore perdita d'acqua nel senso che lì dove c'è degrado voluto dalle persone che buttano fanno c'è anche una perdita d'acqua importante che ha generato uno stagno cioè qui non è più una pozzanga nello stagno e la gente che fa nello stagno viene a cacacce perciò tanta tanta cacca tanto tanto schifo tutto che puzza io non ce lo volevo venire manco oggi e mi è toccato venire poi quello che buttano è de tutto guardate la schiuma monnezza birre scureggi assortite de tutto e de più e questo poteva essere invece un posto tranquillissimo vicino a una stazione e invece qui tra carta stagnola che ci si fumeranno la roba bottiglie varie spaccate e non e tonnellate di peroni a sto punto siamo rimasti in una situazione drammatica ma io mi domando ma chi se beve tutte ste peroni ma è una pubblicità perché a sto punto è l'unica cosa che mi viene in mente salve ragazzi io ho detto veniamo a Roma mi senti conto che incontriamo Cicalone perché dove siete voi di Gaeta ah no sono venuto a documentare qui che c'è stava tutta la monnezza la sozzeria gente che si droga lì sotto qui dalla stazione Ostiense proprio dall'uscita ora andiamo a vedere il famoso lato incriminato che è questo qua perché lato incriminato perché è dove l'altra volta ci hanno imbruttito che non dovevamo fare le riprese ma ha sparato scusa questo è luogo pubblico io vengo a fare scusami no dentro casa tua lo fai no questo è luogo pubblico quale casa tua ma che c***o sai a dire ma quale casa tua oh questo è luogo pubblico questo è un parcheggio pubblico ci vengo quanto c***o mi pare scusami è dove spesso troviamo più degrado nonostante sia un parcheggio privato i famosi parcheggi privati che tante volte ci dicono non si può filmare è un parcheggio privato poi ci sta veramente il degrado più estremo tutto un accatastamento di vestiti e cose che solitamente vengono vendute nei mercatini dell'usato usando tra l'altro i carelli del supermercato questo ripeto nel parcheggio o comunque nell'area antistante il parcheggio delle ferrovie dello Stato e lì c'era veramente di tutto e io sto notando eh però non vorrei essere ottimista ma a me sembra tutto pulito questa era la famosa area dove lì c'era di tutto e di più e poi lo tolsero ah ecco perché infatti perché ha scaricato tutto ciao ho chiesto anche a chi conosce la zona chi vive la strada e hanno detto che è una persona che sta poco bene con la testa e qua avevano spostato praticamente un'intera area tra carrelli roba per mangiare roba per dormire schifezze varie eccetera oggi è tutto pulito vestiti detersivi materassi stampelle carrelli vari poltrone c'è anche la possibilità di cucinare giustamente c'è anche una sorta di guardaroba che funziona io sono essere fatto guardate parte parte la sporcizia ordinaria ma questa a Roma neanche ce ne facciamo più caso se c'è in cartone se c'è un po' di plastica per noi questa si chiama sporcizia ordinaria ma qui c'era invece un'enorme quantità di materiale raccolto qui ci avevano detto che non potevamo filmare perché adesso il motivo non te lo so dire e c'era questo cancelletto che era aperto è proprio un'area di totale degrado come potete vedere tra l'altro questa fontana doveva essere chiusa e invece è stata aperta è stata utilizzata e qui dentro succede praticamente di tutto oggi questo cancelletto è chiuso con un signor lucchetto blindato e che ce voleva c'è una roba nel certo livello qualche maglietta qualche succo un po' di zozzeria c'è rimasta un pasto un solo pasto un po' di cacca come se qualcuno dopo il pasto avesse fatto la cacca e tutto il resto è chiuso ma è rimasto aperto a parte qui scusate c'è un po' di zozzeria e piscio quell'altro cancelletto dall'altra parte perciò infatti da questa parte qui dentro delle cose ci sono e qualcuno ha nascosto i propri panni o altro lì all'interno della parte della fontana dal punto di vista di visibilità di chi esce dalla stazione è cambiato tanto anche entro la fontana hanno pulito e sto parcheggio diventa pure più vivibile perché le macchine ci stanno poi c'è chi parcheggia sul marciapiede c'è chi si mette di qua l'effetto finale è positivo qua teoricamente ci sarebbe la possibilità di chiudere lo suo cancelletto vediamo non ho messo il filo di ferro che è stato riaperto il lucchetto è chiuso ormai ossidato e questo comunque diventa un'area per chi ha bisogno di dormire ha bisogno di nascondere qualcosa e ha bisogno pure di fare qualche bisogno e ci ha bisogno di fare qualche bisogno farire questo marciapiede purtroppo non è stato pulito ci stanno ancora le piante ci sta ancora un po' di sozzeria buttata e considerate che è l'unico marciapiede che vi porta da sta parte e l'unico marciapiede che vi porta al car sharing che è la cosa più importante qui continuiamo a trovare un po' di tutto addirittura questo è lo sportello di un cassonetto che è stato posizionato dietro al coso del pagare parcheggio non capisco quale sia la logica qui buste bustine sozzeria varia la famosa salita rampetta del disagio perché qua come vi ricorderete i rimasugli di chi ci abita pentole scarpe probabilmente è un mix tra un mercatino abusivo e qualcuno che ci abita perché lì c'è un barbecue lì ci sono delle pentole delle uova roba da mangiare qua in giro ci sono comunque dei mobili ci sono degli effetti personali era tutto pieno di roba è rimasto solo quel pezzo di marmo fatto a panca che ancora ci si mettono seduti e le bottiglie con le quali bevono e qua sotto non è stato pulito cioè quando hanno pulito sopra ovviamente storio discorso chi pulisce la strada dice questa non è mia competenza è privato perciò si fanno le cose in due fasi pulisco la strada perché me compete qua sotto non ci pulisco perché è privato ma non è che qua sotto i topi non ci vanno perché dicono che è privato gli animali le malattie le cose quando si pulisce si pulisce tutto non puoi lasciare sta roba non puoi lasciare questi vetri perché altrimenti non ti dico che il lavoro è fatto a metà ma il lavoro non è fatto bene se viene uno a pulirte casa e ti fa tutta casa e poi ti lascia in angolo con tutta zozzeria che fai? gli dici fammi tenisci pure quest'angolo perché quello non lo fai e qui purtroppo come potete vedere oltre che essere accesso libero è veramente uno schifo vabbè qualcosa vi devo far vedere perché altrimenti la gente non si motiva a venire a pulire qui perciò chi è responsabile quest'area privata al numero 7 deve sapere che ci sono siringhe tra l'altro siringa qui pure scoperta anche pericolosa con l'ago fuori anche lì altra siringa anche di qua un'altra siringa perciò questo luogo qui è solitamente deputato all'utilizzo delle siringhe oltre al fatto anche qua vedete oltre al fatto che poi buttano di tutto perché non è solo sporcizia normale qui c'è vetro sozzeria topi pezzi di sedia a rotelle e se qui scoppia l'incendio chi fa sicurezza chi se ne accorge detto questo veramente invito il proprietario di quest'area a bonificarla perché è la cosa migliore si siringa ovunque sozzeria schifezze l'unica cosa che mi meraviglia è che non ci vengano a cagare mancano solo le cagate qua e stiamo a cavallo detto ciò me la sono rischiata abbastanza e me ne torno su un altro problema importante è che questo non è interdetto cioè il fatto che io possa scendere tranquillamente questa rampa senza neanche dover scavalcare magari un cancelletto una cosa fa sì che questo è accessibile a chiunque compresi magari dei bambini che abitano qua e che vanno a giocare giù e che si possono far male con una siringa si possono far male con tutta sta sporcizia o essere morsi anche da un animale qui la stazione praticamente è l'ultimo baluardo perché ci sono le case e molte persone che abitano qui soffrono tantissimo il degrado dell'aria della stazione perché qui sotto la sera ci si mettono a beve ci si mettono a fumare a fare di tutto qui purtroppo siccome il garage ormai non è più fruibile perché qui molti condomini avevano acquistato o noleggiato praticamente un posto auto ma per problemi tecnici ci hanno detto che non possono più accedervi chi dorme lì chi bivacca qui il fatto che ognuna di queste rampe è lasciata a se stessa non è più una cosa fruibile voi immaginate che qua sotto dove ci sono questi sfiati del garage grazie per il lavoro che stai a fare perché è terribile sì anzi hanno pulito un bel po' alla fine lì hanno tolto tutto si siamo infatti ci stiamo pure là l'hanno tolta ci stiamo a fare il giro di tutto infatti ora sono rimaste le rampe dei garage sono tutte sozze e quella lì giù è piena di siringhe infatti stiamo a dire che i residenti che abitano qui come fanno perché sotto casa c'hai tutte queste situazioni eh sì c'è ragione vabbè piano piano dai grazie voi vedete molti residenti ci segnalano che miglioramenti ci sono stati perché poi alla fine ci sono stati però quello che rimane molto problematico è ancora le parti chiamiamole private no? queste qua perché se lasci qui sotto una possibilità d'accesso e poi la cosa assurda è questa è che qui sotto vanno a fare di tutto e di più bisogni e come vedete ci sono le telecamere allora o sono rotte queste telecamere o non le guarda nessuno con tanto cartello area video sorvegliata perché altrimenti se ne accorgerebbero e andrebbero e dicono che stai a fa? e invece sotto casa delle persone si ritrovano sempre questa situazione vandalismo sporcizia guardate qua che roba roba buttata cioè questi cassonetti qua cioè non sono normali ci hanno pisciato di tutto e di più poi considerate che qui stiamo alla sede centrale della CEA tra l'altro lì ci sono le prime centraline elettriche di Roma per ricaricare le auto qui se trovate auto elettriche macchine in certo valore che vengono qui a ricaricare mezzo al casino mezzo al degrado ciao e qui nuovamente dalla stazione Ostiense noi vi salutiamo ci vediamo fatti sto giro e abbiamo controllato che alcune cose sono migliorate altre devono essere migliorate però già è un passo avanti purtroppo c'è un problema ancora più profondo che è quello relativo alle persone che bivaccano che stanno per strada che mangiano si drogano buttano fanno cagano eccetera perché poi finché ci saranno persone in queste condizioni i problemi si ripresenteranno sempre se invece si ragiona su qualcosa dal punto di vista di accoglienza che uno non dice l'hotel a quattro stelle o altro ci sono delle persone che basterebbe un letto in un luogo coperto dove possono sempre accedere ci sono persone che basterebbe una piccola stanzetta anche da dividere con qualcun altro detto questo fateci sapere altri luoghi altre aree altre situazioni che sono degradate o che sono migliorate ci vediamo al prossimo video ciao ciao